Oggi presentiamo la collezione Bulgari, autunno-inverno 2016. Presentiamo la nostra borsa iconica Serpenti Forever, rinnovata con tantissime lavorazioni nuove, con una nuova testa, con una grafica nuova, con dei nuovi colori, con materiali preziosi, pitoni, lucertola. Abbiamo anche la nostra borsa con il frame, che parte caratteristica della nostra collezione, in nero e in oro. Abbiamo la versione con le gemme. Abbiamo una nuova versione, chiamiamola Kilted Skayak, che è una nuova borsa Matelassé, con questa nuova di Serpenti Forever. Abbiamo anche una nuova borsa, sempre la nuova collezione di Serpenti, chiamata Viper, perché ha tutta una nuova forma e una nuova chiusura che presentiamo in questa collezione. E poi, per finire, ovviamente, riproponiamo la nuova linea che abbiamo lanciato la stagione scorsa, Bulgari Bulgari, che è la nostra borsa Signature, che questa volta si presenta con delle nuove lavorazioni, con i pitoni sfumati e con la lucertola dipinta a mano, che sono delle lavorazioni veramente speciali, con la barra per spiccio, però anche con la madre perla. La nostra limited edition bijewel di questa collezione si ispira a un gioiello degli anni 60, indossato, fra le altre persone, da Monica Vitti, che parte della nostra collezione Heritage, che abbiamo interpretato in un modo diverso della collezione scorsa, dove è stato decomposto per poi essere ricreato con una forma molto nuova e innovativa e giovane. La nuova chiusura si ispira a un gioiello diverso, un bracciale della nostra collezione Heritage, dove le scaglie sono nere, una testa che vi dà un tocco molto grintoso. Ci sono tantissimi colori nuovi, il nostro colore che vendiamo di più è sempre stato l'Emerald Green. Per questa stagione introduciamo anche le altre due pietre preziose, il Saffiro e il Rubi, un colore blu molto profondo e molto bello, e anche un rosso molto rubino, molto bulgari. Poi ovviamente abbiamo tutta la gamma degli ori metallizzati, che fanno sempre parte della collezione Bulgari, dei colori stagionali, sempre ispirati alle pietre, che sono il Tiltopas e il Tlamat. Anche gli occhiali, abbiamo tantissime novità, forme nuove, sempre ispirate alla collezione Serpenti, molto innovativi, giocano con i metalli, giocano con gli smalti. Grazie per la visione!